Buongiorno, benvenuti a Ferruccio Kenetti, Presidente dei Bacchendi allevatori di Fiemme Fascia. E sono con Paolo Brunel, che sarà l'incontro di quella che adesso, anche con Dileamola Melga, di Ciampedel, appunto in il fabbricato che è a Ciampedel. Il fabbricato che è a Ciampedel, la velgia melga, si andò con il comune che fanno dei ragionamenti per fare un piano di attrazione, per poterla valorizzare, non è più che l'è adesso, perché adesso l'è rivolta verso il sociale e adesso il pubblico potesse comprare questa melga, e il pubblico non c'è tanto interesse a comprarla, che allora vengono fatte che spiano dell'attuazione, non promettevo che vengono fatte che spiano dell'attuazione, e vennerà venuta a parte della melga, e una parte vengono a tenere e a mantenere un punto vendita a Ciampedel, perché la melga è storica a Ciampedel, e fosse bello poter tenere, questo punto, che è il punto di riferimento per il turismo e per l'azienda a Ciampedel, e poter tenere questo punto vendita, che poi come diceva in Ant, poter se vengono la roba noi sul post, logicamente, dà una marginalità superiore di quella che avvene dall'altra mano, insomma, ecco, e così è pronta a tenere e a mettere in campo questa operazione che ho. Ora che la bottega adesso resta la bottega, ora che abbiamo fatto il formale adesso, si vengono a Venù. Esatto, 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 facciamo così, questa è la mia cosa che si volesse fare, insomma. Ecco, è giusto così, Luigi? Sì, sicuramente, se non le, io dire, un punto vendita, la vita, il spazio, per il Germain, sicuramente io a vedere, dopo adesso, alla fine, le semper, i corsi, i ruoli, se scuose, perché il post, lì, in post, mui e trafica, però non ha il problema, è sempre quello di poter mettere un'auto di cadela, dopo, se le vengono fuori, non c'è chi ha il problema con il piano di fabbrica, che allora, sicuramente, per trovare una soluzione, per poter, una parte, recuperarsi, che dei soldi, per fare una cosa che ho, non vedesse altre soluzioni, insomma. Cinque milioni e passi di euro, no, per farci la neve a Melga, a scuerci, dici, da contribuccio, provinziaio, ed è quindi, si ravecceri il sondaggio, troppo. No, noi, contributi provinciali, i ruoli, al 40%, il resto dei soldi, vengono dalla vendita del caseificio, e dopo il resto, vengono a fare dei mutui, dicono che, ecco, coperfidi, che le dicono, è niente che le dà la provincia, che ne daranno a manna, a fare dei mutui, ha un tasso agevolato, però, le dà il 40%, più la vendita del Venge al caseificio. Il resto, vengono a fare dei mutui, e poi, ecco, è di scherzo. Voi non hai dei problemi, se l'accesso al credit, se gli artesini, allora? Ma non l'è proprio, non ho problemi, perché avremmo sicuramente, coperfidi, che l'hai molto brava, che l'hai sensibile, hai bacche in la provincia, che l'hai sensibile, e, in realtà, accederà il credito, però, logicamente, li stanno per soldi, chiedevi il torno, ma non c'è da ridare torno, e pagare, insomma, non c'è, dico, l'affitto dei soldi, insomma, ecco. Quello che è l'atto della Melga, il venne, un po' di più che il trono, non c'è facile, è vero o no? Ma, per dire che stanno, non l'è stappato, è più che l'altro, sicuramente, perché, diciamo, nel mercato, che stanno, il grano, è stato un prodotto che l'ha portato su tanto il prezzo, e i casifici che si va a grano, gli ha avuto i miei risultati. Invece il nostro è un casificio tradizionale, e che stanno, ha un buco, qualche sofferenza, e non c'è perché, diciamo, che il nostro consorzio, l'era ite Fiave, con noi, e con la nuova fusione che ha fatto Fiave e Latte Trento, Fiave è la vita con Latte Trento, logicamente, gli essenziali del nostro consorzio, e che che, il costo del nostro consorzio, non era riparti insieme con Fiave, adesso Fiave non l'è più, e logicamente l'è, è un fatturato importante, Fiave, e chi costa l'ho, è con se i pai archi, che l'è resta. E allora, se Dainant costava 50, adesso costa 100 il nostro consorzio. Allora, logicamente, uno è un po' sofferto su questo. Stasso un lavorante, insieme a quella federazione e col consorzio, a mettere in paio, mingol di utcante la struttura commerciale, perché questa eredità che non c'è appalla, ne ha fatta un po' soffrire, insomma, ecco. Una domanda cosita proprio da Profan, se quella che il Puzzone ha la doppelker de fassa, no, ad esempio. Ma, purtroppo, purtroppo, diciamo che, purtroppo, io, diciamo che il Puzzone, anni fa, anche il casificio del Palazzo, del Moera, la Buizzo ha problemi, logicamente, le sta fatta tanta pubblicità, su quel prodotto all'ho, e che il prodotto all'ho, si è fatto un bel luster, e il Puzzone, un nome che non l'è da poco, se vedete che, logicamente, diciamo che la nostra politica, che tutti che ci vanno intorno, io penso che il prodotto all'ho, e allora, adesso, logicamente, per andare in cena a Parbuda, dal Trentino e così, e togli i prodotti all'ho, e già fai Parbuda, con chiaro, insomma, è difficile, è difficile ruotare con duci prodotti, a chi livelli all'ono, e se, insomma, non scherda e fassa, le state inserite, le sette eccellenze del Trentino, come che leite il Puzzone, come che leite il Grana, come che leite il Casolette, gli altri prodotti che leite, insomma, ecco. Ma non c'è Luigi, sono che voleva dire Valc? No, no, ma io dire, hai dovuto tirare le orecchie, Valc, assessore, insomma, che dice Paolo? Beh, non c'è il burdi di tirare le orecchie, sicuramente è stato spento, se un autore, formai, non la connesso con so, a me, è stato di da più che gli autores, da poi a toccarci forse il nome, formai, sicuramente, sarai, non so, mi ha chiaro che vuoi dire, che il vero se, ieri, che siano noi, che siano, insomma, l'era dura per noi, ieri per gli altri, se qualcuno, gli stanno bene, da una mano, gli altri, ci hanno detto, anche te, questo è un ruolo. Da poi, io te die, le ruote del presidio Slow Food, io, hai risonato, parlò già dei 10 anni, con il presidente Laura Lera Petrini, della Slow Food, e hai detto di inserire, noi, ormai, come presidio Slow Food, e il fa, purtroppo, cioè, le massi vecini, il fa, le due val, per poter mettere, in quel vostro, il fa, il merito, perché, che l'ha una storia, l'ha una cultura, che, in quel caso, le arche, le sta dite fino ad adesso, per il fa, né un massi vecino, non può metterlo, in quel vostro. Da consumatore, critic, perché, in questo caso, direttore, mi tocca definire, no, no, più che altro, dire che, fondamentalmente, che l'era il nostrano, tant'ora, che sotto il confine, se le perché, la vita, non è l'autor, più o manco, stagionale, più o manco, perché, dicono, che il confine, sia, dicono, parainante, dicono, è in città, su un questione, che anche, è stato il momento, il Casero di Moena, ha buco la difficoltà, che, fosse stato più logico, da me, in fuori, che, tutta la valla, si mette un sema, e la farese, fondamentalmente, perché, ormai, allora, ecco, se la mente, che il momento, allora, si potrebbe, avere, tutti insieme, sia, promozione, sia, commercializzazione, qualche volta, genere, chi, che sta più buon l'uno, e chi, che sta più buon, che l'altro, ma, da me, forno, se per stato il nostro, strano, da che giocare piccolo, che il di so, che il di sotto. Ma voi, che vengono tenere, di marketing, è, secondo voi, così importante, o no, è questa, marchia, che per essere, quella della DOP? Voglio, ben dire la verità, che il marketing, non è, senza picco, però, se capisci, che, con di, con, con questa, città dell'immagine, della promozione, dell'inome, dell'etichetta, del brand, vuol dire, vuol dire, vuol dire, che anche, magari, la sostanza, non dire, che la, manco, o più, ma, insomma, perché, troppo, vuol dire, in che condizioni, la confezione, l'etichetta, gli nomi, e la commercializzazione, che non è niente da dire. Ferruccio, che ne ti, su questa? Allora, voglio, se dire, che io, mi pente sempre, che anche, il vicepresidente, della, 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 del Ciampedale, l'era venuto, uscente da Moena, ne domandarsi, poteva portare al latte, però, l'era, un momento, lo che hanno, in una magra piccola, e non può dare, ci ha parciuto questo latte. Dove che si ha sentuto, Moena, l'è senzita, Giappardacce, e così, Giappardacce, la supporta, giù il nome, di questo formaggio, perché, voglio dire, che questo formaggio, le originarie, del nostro mondo, da Boce, a Contrini, da San Pellegrini, di zona carezza, l'era, il formaggio, che faceva, che sceglie, in esveglia, e che il formaggio, do, con questa nominazione, l'è senzita, Giappardacce, perché Giappardacce, faceva il bagos, di sei, che anche l'era, l'era su Moena, e ha portato su, questo tipo, di formaggio, che, è chiaro, lo faceva dal Veste, perché che lo facevano dal Veste noi, forse stesse, più a scorci, ma più a scorci, trasforma questo nome, e di Dence, da Trent, che già ha fatto, questo marketing, e se trova, Puzzone, dei due ristoranti d'Italia, parlandoci chiaro, no? Allora, e noi siamo resti, mingoli, e do, adesso, si deve fare sta dopo, però, in Cielo, e ne condiziona, che Moena, Pardacce, che ha il titolo, a noi, ne dà, sia, a noi, di Ciampedelle, a Ciavales, e in Cia Premier, che politicamente, è venuto in Cielo, per zona omogenea, tutta che le storie, e ne dà una quota, che è inferiore, a quel che può fare. Puzzone, è venuto in Cielo, in Cielo, di Cielo, da voi, domani, perché vedo, che per la Neva Melga, il BIM, è adatto, finanziamente, 50 mila euro, la giustificazione, la produzione, di una quota, di Puzzone, la cossita, o, gli ha scritto, fa là? No, gli ha scritto, fa là, i 50 mila euro, del BIM, è stato dato, per l'iniziativa, del Neva Caseificio, è stato dato, per il Puzzone, però, diciamo che, in passato, fino a due anni fa, c'è noi, la protezione del Puzzone, che veniva commercializzato, tramite il consorzio, perché, il Caseificio, dei Pardacce, ne ha dato l'autorizzazione, a poterlo marchiare, così, e, va là, non c'è noi, adesso, che in questo momento, non è un fasone, ma, su me, anche del settembre, viene fatta, questa pubblica audizione, della D.O.P. del Puzzone, che la veniva fatta a Moina, e, e, dopo dopo, da non produrre il Puzzone, insomma, se, logicamente, seduci gli attori, che le dintorna, a questa D.O.P., e, in ossuzionia, questa, che ho, la strada, che stanno percorrendo, insomma, ecco. E per il Cerdefassa, incontra che da venire? Per il Cerdefassa, diciamo, resterà una delle sette eccellenze, probabilmente, pensi che, insomma, per la D.O.P., la siedura ci apparla, logicamente, ma non si sa mai, perché, del futuro, diciamo che noi, ecco, a uno è una bella roba, che il nostro prodotto, le ha, forse al territorio, forse, magari, di più che gli altri prodotti, no? Perché, diciamo che, a uno è tanto fin del post, diciamo, vengono, magari, di medico da fuori, per arricchire, mingono, la razione, però, un tanto fin del post, o là che magari, da altre mani, non è così, insomma, ecco. Il nostro prodotto, sicuramente, è l'attacco al territorio, che è che, per essere che, in futuro, si riesce a valorizzarlo, di più di quello che li ha valorizzato, adesso, insomma, ecco. Deve il paio, adesso, bisogna, tu c'è un altro argomento, che è sempre, d'interesse, perché mai, se ragione, che, che, dei soldi, della parte, economica, si ha sempre detto, ah ma, fare il bacchino, o lo fai per passione, o è invece, che fai di autore, perché, se no, non si vive. E la cosciita, anche con Dio, e il mudain, c'è sotto, che il profil, è il bel e il buon. Ma, te l'hai così, insomma, se lì la passione, se lì lì lì, se lì lì, se lì lì, se lì fa, ma sicuramente, chi che fa, chi che vuole fare il bacchino, pensando da diventare ricche, sicuramente, resta la delusi, insomma, ecco, se per vivere, se per vivere, magari, è pulito, però, c'è la passione, perché, se no, pensa che non ci sia, da diventare ricche, se è giù, da non ho chiesto. A buon conto, venite ben, dite, bene, buono, no, sul 2011, c'è 30 domande, per 11 milioni di euro, duc, squerci, vace, te vale, fassa, ne passa, mille, con, passa 50, aziende agricole, e, a buon conto, insomma, che, ma si è proprio così, da varo, del dutta. Sì, veniamo di te, sicuramente veniamo di te, dalla nostra provincia, dalla Cuperfidi, come che dite in Ante, e siamo sostegni, però, insomma, le nostre aziende agricole, alla fine, le fa, le fa l'AT, e per fare delle aziende agricole, le, 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 le investimenti, perché, le, 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 le fanno una stalla, fanno una stalla, le, 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 sono al milion d'euro, c'è veli trattori, c'è veli bestie, c'è veli terreni, E allora, se le, le investimenti, i greni investimenti, che c'è veli investire tanto, allora, che schiova, logicamente, chi che fa le stalle, come se fa dei mutui, e facendo se che smuti, impesanti da questa roba che ho, e per i lavanti, logicamente, c'è veli investire, e allora, non è che vanno, se chissà che, c'è veli stare attenti, ai passi che si fanno, perché l'ence dell'azienda agricola, magari, sia chi che intorno per il Trentino, che facendo magari qualche pass, mingol di più, dopo non riesce a, a girare avanti, perché gli investimenti, gli è, gli è greng, per le nostre aziende agricole, in base al fatturato, che ha per l'aere, insomma, è un'azienda agricola, ecco. E poi, Luigi, cos'è dei metui, sotto il profilo economico? Ma se fa so' un anno... Il senso è sempre che alla fine, i bacchini di tasse, non si può mai. Ma se qui ne sa ne pare, non siamo anche, ma siamo anche sull'ultima segna, io dire che allora, può da stagione di chi viene, non ci hanno usato le vacce, ma io dire, fino a 4-5 anni fa, secondo me, servivamo a mettervi, a sé che, adesso, l'ultima segna, se giro soldi, ma non ho tasse, perché non c'è discontributi, ma un scheme, dove vengono 4 vacce, che è là, io rilasci a parte, 10-10 mila euro all'anno, dei contributi, non credo che sia chi che fa svivare, le arti le comprate, e che chi ha fatto tutto, abbiamo tutte le paie, adesso guarda, è un genere, per dirmi, come mangiamo, è che il più schietto per l'istà, 32 euro al quintale, ma allora, alla fine, queste vacce, o che gli vuole toccare, a dire, non ci ha ponso 70 centesimi, 75 centesimi, il litro del latte, ma 50 centesimi, io ti dire, che l'ultima segna, se va a fare, la passione, la tendenza, vai avanti, teni dur, però se fassi, se è giù dei conchi, mi dicesse, che forse fosse meglio, fare un mercato, allora, l'incevera, quel che si diceva in Ant, che, o se la ora sono gregn, numeri, di tipo, industriale, e forse, ma no, perché c'è il numero gregn, sì, tu fassi il numero gregn, ma i costi, i valdono, perché io dire, io vedi, tu dì, fino ad adesso, adesso, le vengono su tre stalle, mingono più grandi, sono queste stalle, da oddi, da oddi, bestie, ma l'ultima, io dire, che qui l'uolo, era qui che stasera a me, c'è la fine, perché l'investimento, sulle arti, non era grande, e con quel che, dison, noi cogliamo a comprare, fenni, comprami le mancime, allora dison, adesso tu dì, che ho intorno, Massimo, che è sul comune di Vic, altri paesi, ma Vic, le sono le moglie di stalle, ben pulito, però ne mancano, ne mancano terra, da seare, da far fenni, allora cogliono comprare, non c'è noi, vengono di più, perché le dute concentrano, è la vic stalle, ne mancano a misch, che già mancano, anche l'autobacano, anche il più piccolo, bene, che già mancano, allora cogliono comprare del fenni, allora alla fine dell'anno, il fenni, con che costa, non c'è che, io dì, se ruo a cambiare soldi, ma non a metter via, perché io dì, sono sempre a guardare, guardare, insomma, le navità che sono, che è il mestiere, non ci sono fatti altri mestieri, ma è sempre, sempre a guardare, dison, mingola fin dall'anno, che, là va, metto tutto il lapis, noi mi hai fatto i conchi, proprio al centesimo, perché se no magari, però dì, fino a 45 anni fa, secondo me, se ruo a dischi, che disegnano Paolo, tu vivi dignitosamente, adesso, se fosse da vivere, ma con quel, per me, con quel mio numero di baci, è sicuramente, non lo torbasse a, a questo sostegno. E quel, il contributo, per dire, a far fin, che è stata fatta, in 120 domande, sul 2011? Adesso, tramite Bruxelles, la provincia, vengono date, un premio dello sfalcio, cioè, in base ai ettari, che un sia, se li sia, il venente consumato, e aziende, al ciappò, se io giusto, mi ricordo, sui 380, 400 euro, l'etaro, circa. Invece, se uno si ademò, e lo vengono, al ciappò, sui 150, allora, un 10, che che 10, a Vic, bene o male, ecco, con le stalle che le, ognuno ha 10, chi ne è 7, e tu fai presto, a far fuori i congi, che che vengono fuori. Ferruccio, vuoi che si destrozza, te ogni stalla, che situazione vedete? Allora, coni a dire, da qua, che io mi ricordo, da Bez, che fosse il baccante, che i paesi, l'era, le femmine, o chi della famiglia, l'era più, di onde c'ha, fenda. Invece, da dire anche, con essa, chi della famiglia, che con essa, veramente a scorci, perché sennò, il concino torna, perché, di questo che le sta dite, l'investimento, di un'azienda, le gran, le gran, perché, da scominzare via, dal momento, che adesso, diciamo, dove ci ne vengono fuori dai paesi, e quindi, io ho un pezzo che dice, che, per non creare problemi, è meglio, se ne vengono fuori dai paesi, dunque, ha dei grossi investimenti, per fare da neve, queste aziende, per comprare i macchinari, per la gestione, e con quel che, che vengono fuori dal lato, il concino, stenta a tornare, per fortuna, vogliono dire, che ci ha pochi, che si contribuisce, dalla provincia, tramite la C, però, noi, per poter tirar avanti la baracca, noi, in funzione, che teniamo, manteniamo il territorio, la cultura, perché, diciamo, di molto turismo, la monocultura del turismo, se non la è didata, se non la è didata, dalla cultura, se non la è didata, dagli artesiani, se non la è didata, dai bacchini, la è pureta, non la ha, non la ha un gran futuro, allora, perché, come dire, che in città, il nostro mondo, di, diciamo, dei contadini, dei bacchini, come guardare, di essere a scorcio, di fare i conci, perché i problemi, non la ha un gran, 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 e ogni dita, da risolverne. Deve il paio, un momento, argomento, trovate in te, tra la discussione, in c'è la direttora, dell'istituto, la DIN, se senta resonare troppo, in c'è, non si capisce, se è più, una moda, che passa, o val, che per la era, nella ischia, che va, a fonda, del terreno, di fattorie didattiche, ad esempio, di portare le scuole, i bacchini, a imparare, a telestale, dai bacchini, così, da queste esperienze, secondo voi, direttore, lezissa, c'entivate, di più, e portate in alto, o, vedete più, è una roba, diciamo, che non ha, un grande avvenire. No, da ben fuori, l'istituto, ma, si comincia a dire, che va, di dare, in una certa fascia, bene o male, vedete, troppo, che le musee, in trieste, che lavorano, su questa sorta, di attività musee, fattorie, che viene detto, se sapete, altre contesti, altre condizioni, per il friullo, la che ha, altre territorie, altre altitudini, vuoi dire, quella che tu puoi fare, in l'urier, fuori per l'anno, che ho, la sazione, la è limitata, alla zootecnia, vuoi dire, non è questa, è gran coltivazione, dunque, se presta le manco, per fare un'attività, la riata da fuori, è sistematica, però, che il picco, che se per fare, sulla zootecnia, da me in fuori, per sicuro, che la, la essa da venire, fatta, sviluppare in alto, e se per trovare, non c'è soluzione, che, che, che dà, occasione alle scuole, ma, c'è qui, che vengono da fuori, di qua, di, se far, mingol, più vite, con que, quel, quest'ambiente, con questo mondo, resterà pura, da me in fuori, sempre, c'è che, da nicchia, insomma, c'è che, marginale, rispetto a que, 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 i grei numeri, i grei fattori, che, che sia, della, economia della Val, ma, che, il pecc, l'ha, un gran significato, un pecc, specific, di gran importanza, che, ha da essere mantenuto, a pedra, tutto il resto, con tutta la dignità, che c'è pervenne. Noi, sa, che, per dan, fora, mingol, la presenza, in ce, visibola, di bacchegna, che, le benvera, che, sarà, muie, in ce, vacce, ne, muie, ad este, fasce, anche, condi, ma, vedere, non è, se le vede tanto, e, da me, in fora, se, anche, per domingol, che, la parbuda, da monta, dei paesi, se, talera, se, tegnia il pesco, il bosco, era più alto, non tanto, per dire, andò a fare a marco, ma, forse, in questo aspetto, non meritasse, una ricalificazione. Da me, in fora, i paesi, i padesi, che, condi, di, errores, urbanistici, che, la re, stai, in 50, 60, oramai, gli stai, ventre, fora, gli stai, mudè, de bell, i bacchini, stai, pare, fora, ten verso, dell'auter, questo, mudamento, oramai, il cognome, accettare, ma, tu l'aveis, di paesi, fora, di paesi, tu l'aveis, a mo, già, volessi, ma, poder pisare, a coche, guardasse, fora, na munt, o i pre, il prale, sort, piuttosto, che, queste varie, cavia, se non fosse, i bacchini, sia, che, se portasse, metto, il fene, che, coltiva, vuoi dire, questo, vuoi dire, chi, che, vende, da, di, fora, di, i, i, ai tempi, ai tempi, con, che, è una roba naturale, no, ma, figurarsi, se non fosse, è stato, l'urie dell'uomo, che, secoli e secoli, a trasformare, il bosco, che, che l'era, insomma, la zondra, diciamo, terreni produttivi, e, senza che, condivido, fosse, in due bacchini, che, il pe, che, per, fare, i seguiti, a fare, se, si trova, sane, autere, che, con le zondre, testù, a belle presto, e, dunque, entro, di questo, vers, che, che, le, ecco, il messaggio, culturale, che, per, venire fuori, entro, da una, situazione, del museo, o, dell'attività, culturale, della didattica, della scuola, bisogna, se, poter, slavare fuori, la consapevolezza, la coscienza, di, che, l'estate, l'urier, sulla terra, sul territorio, l'equilibrio, che, l'uomo, la, può, raggiungere, tra i paesi, ecco, che, lei, di gran importanza, che, questo, equilibrio, tra le condizioni, mudate, che, in che condizioni, possa, venire, portare in alto, se, non, addirittura, sviluppa, cioè, adesso, lascio, bene, la parola, a chi, del ministro, per, capire, se, è buono, individuare, il migliore, equilibrio, antre, bosche, pascol, o, che, poteva, per, per, gettore, mingol, la, auta, a questa situazione, se, sente, ultimamente, resonare, de, co, che, veng, con, cimà o manco, i pre, che, veng, su, demò, che, la, sord, de, de, erbade, che, pittosca, in, n'altra, chi, deduce, argomenti, che, secondo me, i, i, che, stess, in, in, grado, far, e, se, e, d'idee, ence, con la discussione, ence, con, con la riflessione, ence, con, con, contraddittorie, per, dire, da, poder, trovar, de, sema, soluzione, che, vai, ben, per, i, bachai, ma, ence, per, il, paesaggio, ence, per, l'economia, ence, per, il, turismo, paese, che, este, il, bel, riconosciamento, che, se, per, gifara, a, queste, perché, le, ha, tagliate da sé, e, te, do la schiena, tutta, tutta, saer, dei, secoli, che, potessimo, venire, valorizzare, di più, e, c'è, una, discussione, c'è, c'è, le, le, scelte, che, fassi, in, c'è, un coche sa da gestire, un paese, un aval. Deve, il paese, Paolo Brunel, i bacchegni, l'està dite, incinante, non de mo' adesso, da Fabio, bende che, i consigli, ince, a se comprare, il fen da foro, no? Lo dicea Luigi, ma, non se pere, il pisar, de dar mingol, de aria, i paese, e recuperar, pre, recuperar fen, che fos, duch, gen va da gnazza, il discorso, di questa sorta, i demò, fantagie, o se pere, a ragionare, con ce che, e c'è, incavar fuori, o anche? Ma, qualche paese, sicuramente, se pere, recuperar, qualche zona, no? Però, le sempre, le sempre, mingol, difficile, no? Perché, per dir, non se, a Moena, per dir, Moena, che, dicono, gioia la stala, per dir, sul comune, sul comune, del Soraga, proprio sul confine, di Moena, e, vicina me, il colo, lo de Moena, dicono, il colo dei soldati, aone, tenc'etari, aone, spascolone, e che, seone, dicono, fin l'autodidì, tra gioie, la nefora, circa, 45 bestie, che si va, pastalono, e, se, non tenc'pre, e, per dir, dicono, che il comune, di Moena, volesse fare un golf, su quel, su quel, territorio, e, per dir, a lo, con un mingol, combattere, dire, sì, va bene, se fate del golf, però, non potete, ne torri pre, no? Perché, se no, noi, restiamo senza, e, questo, setmingo, di utentone, che, magari, o per una roba, o per che l'altra, o per che l'altra, dicono, il terreno, magari, toglie via, per le strade, per, 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 per iniziative, neve, o così, e, senza pensare, che, magari, da podologicamente, è il menza, e, magari, il bacano, resta, con pecteren, che, con comprare il fen, comprando il fen, da podo, magari, le bestie, ci deve portare, a, ince, il liquame, però, con pecteren, che, magari, al bacano, ne peta, de massa, e, da podo, magari, crescere l'erba, che non è, ince, tan bene, no? E, sicuramente, ci deve fare attenzione, a, a essere, ince, il bacano, e, con essere compatibile, col territorio, però, ci deve, che, chi, fa queste norme, che, 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 le campagne agricole, di, sono, le con, aere, so, le con, restare, insomma, per, se, che, le aziende agricole, le, si, sul territorio, le, le, fai la cura, le, si, compatibili, che, non le, inquine, una pianta, farsi una ciasa? Beh, scherzo, non dire, però, per dire, tu, reso, ne, di Pasqua, io, e, abbastanza, con la forestale, gli ultimi assegni, perché, ti, posto, là, che, noi, siamo, ci, ci, passi, tutta, mio, un percentenio, adesso, noi, te, lascio, più, il Pasqua, perché, a dir, che, non le, Pasqua, l'ingol Pasqua, le, le, belle, rancura, tu, passi a spazio, non ti, hai paura, di, conoscere questi vai da pesce, presto, l'altro, non le, c'è, le sue idee, purtroppo, non le, se, si, stenta, a, gli, dar, le contra, sui pre, sui pre, le, le, chi, che, vede chi, vense, perché, su, comune, devi, farne, di auto, assegurla, è dura, l'ultimo senso, con la circomalazione, è stata ottenuta tra i prese, non è che, è che dice a Fabio, adesso è partita da buia, di infacchia, la, di più vie pre, e sta, ormai, fai da fabbrica, e il bel esito, adesso, vai, se le resta, e il resto, non c'è, non c'è, però, di me, non è più, non è più, gran possibilità, di, di poter fare, di più segure, no. Saron, che sta, in giro di opinion, con Ferruccio, la giro a battere, insomma. Ma, io, come se dire, che dal momento, che le ho state dite, che i pre, se noi vado, una fotografia, che c'è, vediamo che, i pre, tal pian, era pre, e ciampes, e dopo, oggi, c'è un buon tocco in su, i pian, se non c'è un buon tocco in su, oltre, resta, dei pian, si, ci occupiamo, il caduccio, ormai, l'urbanizzazione, le chie, la, resta, le resta, i reversi, chiusur, perché, le stagioni periodi, i anni 60, che c'è, l'agricoltura, testa, valla, e amola, dunque, anche, le piccole strade, d'accia, che le era, per il superchis regnes, le è sparide, o le viense, piccole frane, e adesso, non le esiste più, e dunque, per noi, io, amose, a, coi mie, se deciasa, non si apre, e un coi nio, c'è par, l'inzelle, e portarlo giù, però, un futuro, queste robe, e da poi, che s'bosca, che viene avanti, ormai, adesso, parche, qualche, funzionario, proprio, di chi, diciamo, più su, più aus, gli cominciano a capire, che, che i paesi, stanno in respiro, che non è, il pece, per le giocciate, che fossero, che sorelli, che per il venire, che in onde, che i paesi, che fosse, fosse l'uomo, e poi, ritornando al discorso, di Dante, volesse dire, che, con noi, incentivare le fattorie didattiche, che, e, inci, gli agritur, che, che la Luigi, metterlo, un mingo, di bestia, beh, vi porto un esempio, l'autodice, sono, che, tena stalla, per fare, dei prelievi, che ha comprato una vaccia, no, dal punto di vista sanitario, ma, allora, che, che carobola, che tu, mi hai comprato, io, allora, tu, non, tu, sai, perché l'hai comprato, così, ma, spiegami, allora, io, quando, vengono, le committive, samont, questa vaccia, la metterlo, e, la fai, mausera, chi becce, la, beh, io, tecci, lonti, ma, io, tanto, contenci, che, anche, per dire, ci ha parito, e, essere, buoni, mausera, del mingo, dell'altro, questo, le, che, conion, gesposera, a chi, che, ven, perché, i, vengono, dalla città, che, besti, le, 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 in televisione, tutte le cartoline, basta, ma, non c'è la nostra gente, non c'è la nostra gente, i, i, piccoli, ormai, i, bacchegni, resti, peggi, e, non le, più, che, le, am, che, era, nota, fracciazza, e, stala, di, sono, e, partì, allora, resta, peggi, e, le, è, curioso, di, venire a, vedere, co, che, le, c'è, che, che, fatti, moussat, che, che, se, faccia, ma, c'è, navaccia, e, te, robe, che, ho, le, serve, sia, per, la, nostra gente, ma, c'è, per, la, gente, fora, perché, le, è, una curiosità, e, le, che, dice, Fabio, che, smondo, alla, cultura, è, ottimo, per, il, turismo, sarà, tecnia, Montencio, non, forse, non, fosse, niente, così, da, fuori, all'area, orbite, che, idea? Sì, purché, devente, spieghe, della, situazione, dei, che, condi, e, non, una, fausità, di, che, era, nota, perché, sono, due, contenti, che, non, si, con, più, padire, la, fam, e, si, rasse, finti, le, crepe, se, sa bene, non, trovare l'equilibrio, anche, perché, lei, di, sono, l'attività, e, la, redditività, che, due, cilulieri, si, con, e, con, di, con, quel, che, è, il portale, della, nostra, storia, perché, è, un valore, che, nessun, altresi, per, ne, dare, insomma, la, da, ite, e, non, se, gestire, stesse, dunque, che, una roba, che, mi, preme, sottolineare, di, che, versi, per, se, avvergere, un terreno, di, ma, ora, collaborazione, ante, i settori, economici, di, che, dei, bacchini, e, c'è, l'istituzione, nel, il, comune, generale, che, ha, una, gran responsabilità, adesso, c'è, su, che, le, questione, economico, questione del territorio, e, c'è, la parte culturale, da Menfores, che, diceva, Ferruccio, ha, da, esser, le, am, fon, perché, questa, le, nostra, se, volu, dire, identità. Deve, poi, adesso, andiamo, a curta, pausa.